Io credo che tutti sappiamo che è una partita molto importante per tutti e due, per noi, perché il discorso del terzo posto può essere finito per loro perché vogliono giocare in Europa. Credo che lo sappiamo, sappiamo che Mazzarri è là, sappiamo che io sono qua, sono tante cose di parlare ma la cosa importante è parlare di calcio. Perché sono tanti giornalisti che devono scrivere nel giornale o parlare nella radio, tutto questo. La mia esperienza dell'Inter, il mio ricordo è molto positivo, di tanta gente, tutta la gente che ha lavorato con me e dopo con i tifosi il rapporto era corretto, non ho avuto nessun problema. Abbiamo vinto due titoli, non ho potuto fare di più e credo che tutto lo che si doveva dire si è detto e adesso dobbiamo guardare avanti e guardare il futuro. A livello delle scelte nessuna perché vogliamo vincere la partita e proviamo a farlo con gli giocatori che per questa partita possono, secondo me, farlo meglio. E tutti devono sapere, se l'ho detto oggi, che noi guardiamo la partita di domani come la più importante e dopo la finale, questo sarà un segnale per dirle all'allenatore, io voglio giocare anche la finale. È un messaggio semplice, non so se è facile dopo per loro, ma chiaramente per me questa partita ha tante motivazioni a livello di classifica, di fare il record di vittoria in trasferta, di punti, tante cose che i guaini arrivare a essere capocannonieri sono tante possibilità di fare ancora di più e questa è la mentalità vincente della che parliamo, di avere un obiettivo e provare a raggiungerlo. Come ho detto prima, io credo che quest'anno il Napoli sta facendo un campionato molto buono, qualcuno dirà no, ma dovevano fare di più, è lo stesso, io penso che un anno come questo, cambiare tante cose e farlo al livello che l'abbiamo fatto è molto positivo, possiamo ancora farlo meglio se vinciamo domani e dopo la finale, ma questa per me è la chiave, concentrarsi nello che possiamo fare ancora e non pensare o parlare di quello che altri pensano. Io credo che più che il Napoli di Mazzari o il mio, è un Napoli di tutti che sono qua, che lavorano qua, della società, dei tifosi e la chiave per me quando sono arrivato era conoscere i giocatori che erano qua e provare a fare un po' meglio con l'idea di calcio che io avevo. Mazzari lo ha fatto benissimo qua, sono quattro anni che questa sì è una differenza importante, un allenatore che lavora due, tre, quattro anni con la stessa società, con la stessa rossa o cambiando qualcosa, ogni anno si deve vedere che ha un miglioramento, lui lo ha fatto bene, adesso quando sono arrivato ho trovato una squadra che doveva capire una idea diversa, un atteggiamento diverso all'atteggiamento del calcio italiano e credo che la strada è giusta perché abbiamo visto tanta gente che contenta dello che fa la squadra in campo e noi sappiamo che ancora abbiamo margine per migliorare questo, credo che è positivo sempre per un allenatore. Io credo che una squadra come società è una società importantissima a livello internazionale, questo lo sappiamo, come squadra è una squadra che ha giocatori di massimo livello e quando parliamo delle giocatori che hanno guarda la squadra ogni partita sono giocatori di massimo livello, così sarà difficilissima per noi per tutta la motivazione che hanno loro di arrivare in Europa perché le giocatori che hanno in campo sono giocatori di forza e di qualità e sicuro che sarà una partita molto difficile perché l'estadio e l'ambiente saranno spettacolari lo stesso. Io sono così concentrato nella partita che normalmente non vedo nessuno, vado diritto all'esplogliatoio e dopo in campo. Che tipo di vendetta senti di dover consumare? Nessuna, un'altra volta devo ripetere che io non ho nessun problema con l'Inter, è una società a livello internazionale la più forte del mondo, il rapporto con la gente che lavoravo là, quasi tutti, era molto buono, con le giocatori era molto buono, quasi tutti, e con le tifosi era buono, non ho nessun problema, io vado là per fare il mio lavoro, al 100% voglio vincere perché sono allenatore del Napoli, sicuro che loro faranno lo stesso, provaranno a vincere la sua partita e basta, dopo guardo avanti. Noi che giochiamo con esterni che sono offensivi, loro devono attaccare, devono attaccare bene, questo l'ha fatto Dries Mertens, questo l'ha fatto Callejón e questo l'ha fatto Lorenzo. La differenza tra Lorenzo, Callejón e Dries è la età, lui è un giocatore giovane che ancora deve continuare a crescere, a lavorare e imparare un ruolo diverso, ma ho sentito che dicevano qualcuno no, perché lui lavora nella fase difensiva e non è brillante nella fase offensiva, questo mi sembra una scusa. Credo che lui sia un buon giocatore, ho parlato con lui, lui sta lavorando tantissimo e questo mi piace molto, ma sta lavorando anche tantissimo durante l'allenamento e dopo l'allenamento per queste piccole cose che ancora puoi fare meglio. Questa è la mentalità che io cerco in un giocatore e lui lo sta facendo, lui è molto contento perché vede che cresce, io sono molto contento perché vedo che ha ancora queste margini di crescita ampio, non è un giocatore che non può correre perché lui ha la resistenza, la velocità, la qualità e la capacità di fare gol e sicuro che farà di più. Non è un esterno in una linea 5 che deve fare tutta la fascia, è un attaccante che gioca nella fascia e che può giocare un lato, un altro lato o dietro la punta. La sua crescita è continuare a lavorare come lo sta facendo che ha tutta la mia fiducia. Sì, della fortuna si parla tanto, della motivazione come abbiamo detto, della cattiveria, tutti abbiamo una parola che durante un anno si deve usare per spiegare qualcosa. Io credo che noi lo che dobbiamo fare è continuare a lavorare così, farlo meglio se possiamo farlo meglio. lavorare di più non è facile perché lavoriamo tanto, ma farlo meglio se possiamo farlo meglio. Di inizio Riccardo e io parlando del mercato con la società e dopo noi lavorando ogni allenamento per migliorare queste cose come lo che abbiamo parlato di Lorenzo. Non è una questione di fortuna solo, è una questione del lavoro e del lavoro ben fatto. Tito, sappiamo che è una situazione difficile, ma io non volevo fare niente o dire niente perché credo che dobbiamo aspettare e vedere che cosa succede. Grazie a tutti.